Grazie Gioia e grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma non è la stessa ora, arrivederci. Arrivederci. Buona serata. Buona serata a tutti. Grazie ancora per il regalo e grazie a tutti voi. Arrivederci. Buona serata. Ciao, tutti. Grazie a tutti. Buona serata. Grazie a tutti. Buona serata. Grazie. Grazie a tutti. Luca. Grazie a tutti, grazie dell'ospedalità, grazie a tutti voi che ci avete seguiti e niente, a domani allora, grazie. Ecco, io vedo lì dietro, già arrivata Elisabetta Battissarotto, la nostra seconda ospite, a venerdì prossimo, alle 5 e mezza, grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti, buon lavoro, vi ringrazio davvero per questa splendida e fondamentale missione. Grazie a tutti, grazie a tutti. Passo la parola al prossimo ospite, grazie Andrea, ripresentato, grazie Andrea, ci chiediamo. Uniamo le forze e facciamo questa volta. Grazie a tutti, grazie a tutti. Ciao, ti ringrazio. Grazie Giuseppe. No, grazie a voi ancora e buon lavoro e mi raccomando impegniamoci tutti, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Giovanni, grazie. Grazie a tutti. Tanti auguri, bocca al lupo a questa manifestazione, a questa malattia. Fai così e saluto tutte le donne a casa. Grazie a tutti. E niente, grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie mille a tutti. Grazie a tutti. Molto seguito. E' stato utilizzato. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie ancora a Michele Pierin della Nuova Venezia, grazie al giornalista cara. Quindi grazie ancora. Grazie a voi. È stato veramente un piacere. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. E ci vediamo presto. Come sempre sono a voi. Grazie. 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 Ciao, arrivederci. Allora, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' stato un piacere ascoltarli. Ciao. Grazie. Questo è stato il mio tipo a contributo. Il mio nome è Ribelle. Non più riattività. Così mi sono salvatore. Mentre io sono morto. Grazie. È una giornata che aiuta ognuno di noi a migliorarsi. Grazie. Grazie. Grazie ancora. Grazie ancora. Ciao. Ciao. Grazie. Grazie a te. Grazie veramente. Grazie. Grazie. Grazie ancora. Grazie a te. Grazie a tutti voi. Grazie a te. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Mentre noi a tutti. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. e ringraziamo e cesiamo il posto ai prossimi. Buon lavoro. Grazie molto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Infatti è veramente un grande lavoro. Grazie. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie mille per la vostra attivazione e grazie a tutti che ci vediamo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie, grazie Roberto, veramente molto coinvolgente. Grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti e grazie a tutti. Grazie a tutti e grazie a tutti. Grazie, 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 ciao, alla prossima. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a Andrea, come è? A presto. grazie 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 è stato molto interessante con il medico medico grazie 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 professore, grazie Gianfranco, è stato un piacere, grazie. Grazie Guido, è stato un piacere. Vi ringrazio davvero tutti, l'iniziativa è molto bella e spero che possiamo dare continuità anche da un insieme, anche da un po' di via da un insieme, però possiamo ritrovarci anche in altri momenti dell'anno, per tutto a rendere coerente e continuativa un messaggio a tutta la città per tutta la libertà di cui mostro. Grazie. Grazie. E vi ringrazio tutti per la pazienza che avete avuto e per la piacerezza che avete dimostrato. Comunque io vi ringrazio un bacio, grazie a tutti, grazie a tutti e arrivederci. Grazie a voi. Intanto vi salutiamo. Grazie. Buona sera a tutti. Grazie maestro e via. Grazie. Grazie. Bene, a domani allora. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie a voi ancora. Grazie mille. Grazie a tutti. Buon weekend e alla prossima settimana. Grazie. Grazie ancora. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie al nostro. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Buona serata. E alla prossima. Buona serata. Grazie a tutti. ci ha seguito e vi aspettiamo. Grazie, poverissima. Grazie a tutti e alla prossima. Un sorriso, anche se non si vede un sorriso a tutti. Le buone feste. Grazie dell'ospitalità e posso approfittare per fare degli auguri buone feste. Auguri buone feste, buon Natale, anomalo, molto anomalo, ma cerchiamo di ridurlo con passione e con un affetto che c'è un'esperanza. Saluto a tutti e personalmente auguro buon Natale a tutti voi e le vostre famiglie, anche se questo comincerà sarà un Natale anomalo, però la speranza deve essere sempre nei nostri cuori. Io auguro buone feste a tutti quanti, spero che le passiate serenamente. Ringrazio l'aula e speriamo di vederci per anche prima. Grazie intanto ai più presenti fratelli Trevisan. Sapete che noi balliamo e ringraziamo sempre i fratelli Trevisan, però voi li avete visti poco. Alessandro e Massimo Trevisan sono i titolari. Sono i titolari di questo punto vendita di allenamento molto bello. Bene, io ringrazio tutti perché questo è l'ultimo incontro in diretta streaming sui fammi estremia. E auguro a tutti naturalmente buone feste, buon Natale, ci siate prudenti con il Covid, non si sa mai, è meglio dire una voce più più o meno. E vi informeremo e vi tratteremo sicuramente informati su quello che saranno le nuovità del 2021 e ce ne saranno moltissime. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.